ciao a tutti ragazzi ricomi qua sono megateaker finalmente qua davanti a me quest'oggi ho il dual sense edge non solo per l'unboxing ma per portarvi una delle mie approfondite e sincere recensioni di questo controller che ha incuriosito effettivamente molti e molti di voi ma prima di passare alla recensione ragazzi voglio ringraziare alessandro giustino che ha seguito l'esempio di claudio battista ed è il mio secondo abbonato con formula di un caffè mensile che mi sono ritrovato sul canale se a qualcuno piacessero i miei contenuti volesse sostenermi seguite anche voi l'esempio di alessandro e di claudio perché come vedete i contenuti che porto sono veramente onerosi le case come dico sempre non considerano ancora il piccolo megateaker ma io non demordo ve li voglio portare e quindi un piccolo sostegno sicuramente è ben gradito ma adesso passiamo subito al dunque qui a destra lo scatolone il packaging non ve lo sto a far rivedere in stile assolutamente sony molto simile a quello del dual sense con un bello scatolone rigido che all'interno conteneva la custodia rigida anch'essa del nostro controller che io immediatamente ho promosso a pieni voti ma dopo essermi sgusciata dalle mani vi dico è molto bella sì ma è anche molto liscia state all'occhio quando la maneggiate perché ci vuole nulla che scappi dalle mani e vi finisca per terra al di là di questo piccolo inconveniente ragazzi però la custodia molto bella lo ribadisco guardate come è curata nei dettagli all'interno la dotazione è ricca abbiamo un cavo lungo circa tre metri per poter giocare a distanza da un divano abbiamo due serie di palette queste sono quelle all xbox le abbiamo viste nell'unboxing anzi vi rimando anche a quella per avere una visione più approfondita del contenuto qua una carrellata veloce per chi non avesse visto l'unboxing le altre palette come vedete io le ho montate qui e poi ne discuteremo insieme dotazione che in realtà esclude questo che è il modulo analogico che ho comprato a parte 25 euro vi ricordo il prezzo però carino che all'interno della nostra confezione rigida si trovi un alloggio per poterlo comodamente riporre portarlo con voi moduli assolutamente bocciati bocciata la scelta di mettere quattro levette tutte convesse nessuna concava abbiamo sì la scelta sulle diverse lunghezze maimè per quelli che non amano avere la levetta convessa di fatto è tutto vanificato non avremo quindi ricambi come piacciono a noi nelle vette più lunghe in questo sony sinceramente ha toppato secondo me alla grande non costava nulla inserire le due tipologie di levetta magari una lunga una corta ma ripeto averle anche concave e già che sto parlando di levette ragazzi voglio andare a esprimere nuovamente un mio piccolo dissenso sul meccanismo meccanismo meccanico nulla di magnetico come vedete si gira nella maniera dove va l'accoppiamento si schiaccia in giù si incastra in realtà è forse più una cosa mia psicologica perché poi alla fine della fiera la levetta si incastra bene si toglie bene e si rincastra bene però questo tipo di accoppiamento plasticoso mi dà l'idea di essere un pochettino delicato la dotazione finale ragazzi della nostra confezione conta poi nell'attacco rigido per poter collegare il cavo in maniera molto solidale in questo modo poi ve lo farò vedere un attimo in azione dopo sicuramente una soluzione valida per gli smanettoni o comunque le persone un po' irruente io sinceramente l'ho utilizzato le prime due volte ma poi nell'utilizzo quotidiano preferisco ad andare a mettere il mio cavo in questa maniera che comunque è piuttosto rigido nell'accoppiamento ma molto più veloce nell'inserimento ma adesso abbiamo visto la nostra bella confezione andiamo a vedere il nostro controller vi anticipo già che sarà una recensione abbastanza lunga e molto pignola voglio essere pignolo con questo oggetto perché intanto parliamo di un oggetto di 240 euro e poi perché quando una casa così importante si muove in una costruzione in un progetto di questo genere capita un po' a tutti di voler essere molto pignoli nel giudicare il loro operato a questo proposito vi dico già ragazzi che ho visto tutte le recensioni o ad ogni modo le presentazioni secondo me è il termine più adeguato di questo controller online e ho notato un accanimento veramente efferato nei confronti di sony con delle critiche che sulle prime mi erano sembrate fine esagerate ma con l'utilizzo poi dell'oggetto e aver fatto la conoscenza col tempo mi sono sembrate alcune veramente del tutto fuori luogo ma non voglio criticare l'operato degli altri sono qui per dire la mia e anche io ci darò dentro e ad esempio vi vado a far vedere una cosa che forse qui in telecamera non si evince tanto ma bumper e trigger sono fatti di una colorazione assolutamente diversa che sinceramente non mi sembra neanche essere fatta volutamente ma l'impressione è quella che siano stati utilizzati i bumper del dual sense e quindi reciclati quelli del dual sense normale magari poi farò anche un tentativo di inserimento per averne conferma con invece una nuova costruzione anche avente vedete questa texture per aumentare nel grip che però ad ogni modo non so ripeto se lo vedete anzi lasciatemelo nei commenti si discosta dalla trama del bumper un grigio più chiaro per il trigger un nero più scuro comunque un grigio più scuro per il bumper questa cosa a me non piace fa storcere un po il naso ma ripeto qua si parla veramente di pignoleria la prima parte della recensione ragazzi sarà tutta di questo calibro infatti andrò anche un po a criticare le corna del controller che secondo me sono un po troppo spioventi all'indietro come già lo erano in parte nel controller dual sense se avete visto le recensioni che avevo fatto del dual sense avevo promosso dei grip della extreme rate che andavano a fasciarlo di fatto a implementare il diametro del corno soprattutto nella parte posteriore cosa che aiuta molto una volta preso in mano e stretto in mano a non fare l'effetto sgusciamento effetto sgusciamento che qua è un po limitato dal grip che hanno messo sulla parte interna del dual sense ma che avrei gradito essere estesa anche sulla parte esterna ad ogni modo ragazzi l'ergonomia è buona mi piace si tiene bene in mano e vi dico la verità anche dopo un po di utilizzo questa sensazione di perderlo in avanti ad ogni utilizzo va sempre via a scemare all'inizio del video vi facevo vedere che io ho installato queste palette che sono di fatto le mie preferite non tanto per un discorso di ergonomia che mi costringono come vedete a tenere le dita abbastanza avanzate avrei preferito averle un po più vicine ai gambi ma di fatto quello che apprezzo di più di questa soluzione è che essendo più corte quindi avendo meno leva risulta l'azionamento un po più duro e quindi anche molto più preciso e non capita praticamente mai di premerle per caso non posso dire la stessa cosa delle palette stile elite anzi sono proprio identiche a quelle dell'elite come vedete qui la leva è molto più lunga quindi di fatto una sensazione di morbidezza dell'azionamento che non trova riscontro nei miei gusti e di fatto nelle sessioni concitate mi è anche capitato qualche volta vedete le dita qui sono sì più vicine ma mi è capitato qualche volta di schiacciarle azionarle per caso quindi per me assolutamente promosso il tastino sebbene costringa a una posizione leggermente più aperta del dito e invece non dico bocciato perché di fatto poi funziona bene ed è raro che mi sia capitato di schiacciarlo però il fatto che sia così morbido non mi piace tanto e quindi bocciato tra virgolette la soluzione elite come vi dicevo all'inizio devo essere pignolo e anzi in realtà non sono l'unico perché questa cosa che vi sto per dire me l'ha fatta notare un ragazzo un mio follower che mi ha detto mega ticker puoi controllare se la pressione dei tasti quadrato triangolo cerchio ed x ti risulta essere più morbida e cedevole della pressione del dual sense normale io subito sinceramente non ci avevo fatto caso vi dico già anche che è una cosa veramente molto molto lieve ma effettivamente è vero mi sembra che la pressione di questi tasti offra una minore resistenza e anche che siano leggermente più ballerini dei tasto del controller normale del dual sense qui voglio dire una cosa secondo me sony avrebbe dovuto azzardare e mettere dotare il suo controller di tasti digitali così come hanno fatto altri controller tipo trasmaster o il razor che vi porterò in recensione vi dico già che l'ho preso quello per playstation 5 così come anche le frecce direzionale io sono un amante del kit extreme rate che trasforma tutti questi tasti in digitali e mi sarebbe veramente tanto piaciuto ritrovarmeli qui nel dual sense edge andiamo avanti con le critiche con i difetti ma vi assicuro poi ci saranno anche tanti pregi come avevo detto in unboxing il meccanismo dei trigger stop lo trovo abbastanza brutto per questi motivi ci ritroviamo tre posizioni del fatto secondo me inutili andava benissimo avere l'ultima e avere la prima che permette l'utilizzo del trigger adattivo la seconda posizione lascia come vedete una corsa piuttosto ampia e non vedo quale vantaggio ne potrei trarre ma la cosa che non mi piace assolutamente negli sparatutto dove dobbiamo essere fulminei vedete la corsa dei trigger anche in posizione più corta possibile è parecchio lunga e oltretutto voi qua non lo sentite o forse sì ad ogni modo quando premete il tasto va in battuta e poi fa ancora un fastidioso click evidentemente perché il tasto stesso il trigger va in battuta con un incudinetto che lo blocca ma che poi gli lascia questo grado di libertà che è veramente fastidioso ecco sinceramente credo che davvero da parte mia questa dei trigger sia la critica più dura che possa muovere alla sony non mi è piaciuto assolutamente come l'avete progettato l'avrei fatto assolutamente in maniera differente voi ne avete le possibilità avrei copiato l'idea geniale che hanno avuto in casa scaf come vedete il trigger può essere utilizzato in maniera analogica per poi passare semplicemente con uno spostamento di una levetta a un azionamento digitale sicuramente in caso di dual sense edge la cosa sarebbe stata molto molto più complicata anche perché qui abbiamo i motorini dei trigger adattivi che probabilmente non avrebbero reso la vita facile a una scelta del genere ma io ero assolutamente fiducioso e sono convinto che se sony avesse voluto fare un meccanismo per realizzare una cosa del genere lo avrebbe potuto fare ad ogni modo ragazzi sony si salva in corner anche per quanto riguarda il discorso dei trigger perché da una parte si è vero che anche nella posizione più corta la corsa è molto lunga ma dall'altra parte via software potremmo andargli a dire che l'input massimo venga raggiunto a pochissimi millimetri di azionamento del trigger è vero non è la stessa cosa che avere come in questo caso vedete proprio meccanicamente il trigger bloccato con l'input massimo dopo pochi decimi di millimetro dopo pochi millimetri anche perché nella concitazione è difficile fermarsi appena raggiunto l'input si va sempre fino in fondo però ad ogni modo ripeto avere molta sensibilità e l'input spalmato in così poca corsa tramite software aiuta veramente tanto tenendolo in mano ragazzi vi dico che il controller assolutamente ben bilanciato è abbastanza pesantuccio ma il peso non si fa sentire per quanto mi riguarda sui polsi non è sbilanciato in avanti indietro destra sinistra è un oggetto che si tiene bene in mano idea veramente di solidità a parte il mio gusto personale poi che mi piacciono i controller piuttosto pesanti odio i controller ultra leggeri ma ad ogni modo ragazzi vi dicevo il controller è ben bilanciato se lo trovo da qualche parte anzi eccolo qui vi faccio vedere tolgo un attimo questi che sono gli adattatori di extreme rate per poter caricare il controller con le palette sul caricatore originale li tolgo perché vi faccio vedere che il dual sense edge assolutamente alloggia in maniera nativa sul caricatore originale della sony questa era una cosa che me la chiedevate in tanti effettivamente sarebbe stato abbastanza sciocco produrre un controller che poi non poteva essere ricaricato nella loro bella base di ricarica come avrete visto nell'unboxing ragazzi qua sotto c'è la levetta che mossa di fatto fa togliere la mascherina mascherina che alcuni si lamentavano del fatto che fosse lucida io la sto utilizzando moltissimo non si è ancora regata va assolutamente a confermare la sensazione che avevo avuto all'inizio mascherina si lucida ma di una plastica veramente di qualità e quindi per quanto mi riguarda al di là della preferenza estetica se piace o non piace lucida non credo che nessuno avrà problemi di durata della mascherina stessa ad ogni modo vi dicevo levandola si accede alla modulistica estraibile del nostro controller altra piccola pecca in casa sony il fatto che non sia stata pensata o quantomeno non fino adesso la sostituzione con moduli con molla rinforzata di fatto in molti apprezzano me compreso avere una risposta comunque una resistenza dell'analogico maggiore questo capitava con i moduli non so se vi ricordate della astro che alcune case di terze parti avevano prodotto con molle indurite in diverse gradazioni sony avrebbe potuto pensare di farlo lei stessa io sono in contatto con un'azienda che mi ha detto che le farà ovviamente sarà mia premura portarveli in visione sul canale appena mi contatteranno che saranno pronti ma quello che vi posso dire che per adesso non potrete fare questa scelta e quindi i moduli sostitutivi sono solo sostitutivi dal punto di vista funzionale meccanico se andrete a rovinare o drifteranno quelli originali adesso ragazzi vado un attimo a parlare di quello che è stata una critica durissima mossa alla sony perché qua dentro io non l'ho ancora smontato ma ho visto dei tear down qui dentro vi dicevo c'è una batteria molto più piccola di quella presente del dual sense base che di fatto monta una batteria di 1560 mAh contro solo 1050 mAh montati su dual sense edge come vi dicevo si sono scagliate mille critiche perché di fatto il controller effettivamente non dura tanto io ho fatto diverse prove vi posso dire che senza utilizzare la funzionalità di trigger adattivo ho giocato consecutivamente per circa 6 ore e 15 minuti questa è la durata della batteria del nostro controller durata che ad ogni modo vi permette di fare una sessione medio lunga di gioco per poi poterlo rimettere in carica giocare di nuovo ma quello su cui volevo far riflettere molti di voi anche molti che l'han criticato e sono sicuro che poi ne faranno l'utilizzo che sto per descrivere è il fatto che trattandosi di un controller competitivo tanta gente vuole la migliore risposta in termini di input lag e quindi sono anche convinto che il 90 per cento delle persone utilizzeranno il nostro controller collegato via cavo questo di fatto vanifica ogni critica comunque ogni considerazione sulla qualità e la durata della batteria perché diciamocelo l'utilizzo competitivo è ottimizzato se utilizziamo il nostro controller col cavo connesso quindi ragazzi sicuramente non voglio difendere sony non sono qui assolutamente per prendere difese né di uno né dell'altro mi sarebbe piaciuta anche a me una batteria da 20.000 mAh dentro che potevo scordarmi di caricarlo un po' come succede in realtà con Elite 2 che ha una batteria pazzesca dentro però il fatto che non sia stata presa questa strada non la considero un peccato così mortale come invece ripeto a mio giudizio lo è il non aver ottimizzato al massimo la funzionalità dei trigger che per gli sparatutto e per l'utilizzo di questo controller sicuramente avrebbe trovato miglior applicazione bene ragazzi io direi che ho detto assolutamente tutto per quanto riguarda le caratteristiche intrinseche del controller dal punto di vista funzionale meccanico estetico e di materiali che confermo essere di ottima fattura se avete voglia ancora di stare un po' con me vedo la telecamera che mi marca veramente dei minutaggi estremi ad ogni modo se qualcuno qualche pazzo vuole stare ancora con me adesso andremo ad analizzare il software di questo controller che di fatto credo essere assolutamente il plus che fa valere la spesa dell'acquisto del nostro controller ma andiamo insieme ad aprirlo parliamone per poi tornare qui e fare le conclusioni finali per questo video ok ragazzi eccoci qua intanto che la mia astronave scenda sul pianeta controller qui davanti a noi nel riquadrino vi faccio vedere come accedere di fatto alle funzionalità del software come vedete qua sotto agli analogici ci sono due tastini se io li premo entrambe hanno la stessa funzione vedete di richiamare quelli che sono i profili predefiniti schiacciando il tastino corrispondente posso velocemente andarmi a richiamare un preset in questo caso avevo impostato un preset per fortnite se poi volete andare dentro il menu per andare a personalizzare proprio nel software tenete premuto uno dei due tasti indistintamente e come vedete con il tastino in alto a destra personalizza profilo ci ritroviamo catapultati in quella che è l'applicazione vera e propria di sony applicazione come vi dicevo veramente molto ben fatta possiamo vedere i profili sfogliare altri profili che magari c'eravamo salvati in un altro momento se invece vogliamo andare proprio dentro a modificare questo profilo andiamo forte ne schiacciamo la x ci ritroviamo in questi menu dove possiamo personalizzare l'assegnazione tasti e qui interessante al di là del fatto di poter cambiare qualsiasi mappatura di tutti i tasti ma poi come vedete potete andare ad assegnare le funzioni alle vostre due palette sotto r3 assegnata alla pelletta di sinistra basta schiacciare x voglio assegnare ad esempio una scivolata quindi il cerchio faccio altro che assegnarlo in questa maniera dopodiché vado su applica ed ecco lì che il mio profilo è stato cambiato sensibilità levette zona morta e qui entriamo in quello che vi dicevo essere un plus assolutamente bestiale di questo software perché funziona veramente molto bene e in maniera molto semplice possiamo scegliere le vetta di sinistra le vetta di destra ad esempio vi faccio vedere quella di destra che è di fatto la mira abbiamo dei preset predefinita rapida c'è una piccola aspirazione che vi dice gli effetti della curva in modo che non vi dobbiate assolutamente inventare nulla ma questi effetti di fatto vengono anche replicati dal software muovendo di fatto vedete la levetta in tempo reale ad esempio questa curva digitale significa che io muovo poco il mio analogico e l'input che è quella levetta invece blu a un certo punto schizza in alto vedete proprio come fosse un input on off ossia digitale questo può venire utile ad esempio in giochi dove avete bisogno di una risposta immediata istantanea al movimento del vostro analogico torniamo nella configurazione quella precisa ad esempio del gioco di destini o comunque degli sparatutto voi avete di fatto una curva preimpostata ma avete anche la possibilità come vedete di andare ulteriormente ad affinare questa vostra curva potete dirgli ad esempio di renderla ancora meno inclinata e quindi rendere più lento ancora la risposta dell'input oppure potete andare a dirgli di velocizzarlo come vedete la curva man mano che si avvicina al meno 5 diventa lineare e quindi come la curva originale vi faccio vedere un attimo adesso predefinita vi faccio vedere che lo spostamento guardate qua nella circonferenza lo spostamento della linetta blu corrisponde effettivamente allo spostamento della linetta bianca questo vuol dire che l'input viaggia pari passo con l'angolazione del vostro analogico questa è la curva classica che io su tutti gli altri controlli ho sempre utilizzato perché alla fine era quella con cui mi trovavo meglio e facevo difficoltà a trovare delle curve che mi dessero più precisione di movimento in questo software ho trovato invece grande soddisfazione perché come vi dicevo nella curva precisa mi sono regolato l'input che è il segmento blu leggermente al di sotto di quella che è l'inclinazione reale dell'analogico vedete il pallino bianco va più avanti del pallino blu solo nella parte finale si ricongiungono questo significa che per tutto questo spostamento che state vedendo il comportamento dell'analogico segue l'andamento del blu non quello del bianco e quindi avrete un input più preciso più lento che si addice maggiormente ad esempio ad un'azione di mira durante ripeto a uno sparatutto nella levetta di sinistra invece ho messo questa curva perché io di fatto muovo il personaggio e voglio che a una certa angolazione l'input vada oltre a quello che di fatto è la vera e propria posizione dell'analogico di fatto nella prima corsa vedete l'input è minore dell'angolazione reale dell'analogico per poi andare a pareggiarlo e superarlo addirittura nella seconda parte e nella terza andare a ricongiungersi se capite questo sistema puoi smanettare all'interno di queste curve veramente molto molto semplice potrete andare anche a regolare ovviamente una zona morta vedete si amplia una circonferenza in centro questa circonferenza è la circonferenza entro la quale gli spostamenti dell'analogico non sortiranno vedete il pallino blu che resta fermo nessun effetto di input della vostra levetta ovviamente qui è estremizzato l'ho messo a 30 potrebbe essere utile avere zone morte ad esempio di qualche grado 1 per cento 2 per cento in modo da correggere quei movimenti fisiologici vedete del dito semplicemente appoggiato sull'analogico che altrimenti sortirebbe degli effetti di input in game questo di ampliamento della zona morta può essere anche utile qualora la vostra molla comunque il vostro centro non fosse perfetto vedete il pallino quando viene rilasciato aggiunge qua in centro quando ci sono i fenomeni di drift questo pallino è leggermente spostato andargli a dire che comunque anche se è spostato non deve dare input all'analogico può risolvere in molti casi il vostro odiato drift torno indietro vado qui dove vi facevo vedere prima il discorso dei trigger anche in questo caso posso andare a decidere quando e dove avere il mio massimo input durante tutta la pressione del nostro trigger anche se ho un movimento piuttosto lungo però vedete che ho impostato che l'input massimo arriva immediatamente appena io clicco il mio tasto quindi molto prima di quando vado a fine corsa questo permette di avere degli input quasi istantanei nel momento in cui schiaccerete il vostro trigger se io vado a implementare ad aumentare questo numero fino a un massimo direi di 100 il mio input viene spalmato in una corsa molto più lunga che nel caso di trigger stop sbloccato vedete vi rende molto molto fluida e modulare il dosaggio di questo input ad esempio utile nei giochi di macchine di guida dove dovete dosare un acceleratore e quindi avere massima corsa disponibile e l'input spalmato su tutta questa corsa anche in questo caso potete andare a dare una zona morta iniziale ossia vado un po' a esagerare lo mettiamo ad esempio a 50 questo significa che io posso schiacciare il mio trigger vedete fino a metà corsa senza sortire effetti di input una volta superato il 50 per cento l'ineta blu da questo punto in poi inizia ad avere l'input vero e proprio spalmato in questa corsa finale ovviamente anche in questo caso zone morte così ampie non servono a niente zone morte 1 2 3 potrebbero servire a eliminare input sgraditi derivanti solo dall'appoggiare il dito sul nostro tastino ultimi due settaggi intensità della vibrazione forte standard bassa media insomma potete disattivarla così come l'intensità dell'effetto del grilletto potrete regolarlo su tutti questi livelli ebbene ragazzi i settaggi sono finiti c'è un'altra funzione di questi tasti come vedete in basso c'è scritto regola volume degli auricolari regola il bilanciamento ossia tenendo premuto il tasto sotto l'analogico di sinistra o di destra potrete andare io in questo caso non ho le cuffie collegate sia regolare il balance del volume della chat di gioco dal gioco sia il volume vero e proprio degli auricolari bene ragazzi questo era il software del nostro sony sotto che non è presente sul pc ma vi dico una cosa se voi vi settate il vostro controller su playstation 5 collegate tramite cavo il controller al pc vi ritroverete le funzionalità la registrazione delle funzionalità qua sotto anche su pc ebbene ragazzi avete visto proprio tutto se siete stati con me avete avuto la pazienza avrete visto anche le funzionalità e la semplicità con cui sony ha realizzato il software software che come avete visto vi permette una completa personalizzazione del controller e che più di qualsiasi altro software ad oggi provato come vi dicevo permette la regolazione superfina della risposta degli analogici con una modalità veramente semplicissima comprensibile a tutti e quindi fruibile anche dai meno esperti dimentichiamoci quindi quei grafici alla nacon dove sinceramente non si capiva una mazza e ci voleva appunto l'accademia che vi spiegasse come andarli a settare qui il di fatto è tutto molto intuitivo e quindi ragazzi non posso far altro che consigliare questo controller capisco benissimo che il prezzo sia pazzesco 240 euro anche se in realtà è già sceso anche a 229 euro ad ogni modo prendiamo il prezzo di listino che sono 240 euro non sono scherzi sono veramente delle spese importanti ma se avete voglia di fare questo sforzo economico quasi sicuramente non rimarrete affatto delusi io alla fine dopo varie ore di utilizzo sono contento dell'acquisto sono curioso di provare il victrix e razor che come vedete ragazzi ho già qui in scatolati ancora in tonsi perché prima voglio fare l'unboxing insieme a voi due controller che assolutamente andranno a dare del filo da torcere comunque a sony vi ricordo il prezzo io ho pagato in realtà 179 però questi furboni si sono allineati col mercato adesso lo trovate 199 euro il victrix spesa invece improponibile 299 euro per il controller di casa razor anche questo io l'ho pagato in realtà 239 approfittando di uno sconto gamestop non so sinceramente se attualmente si trovi sui 300 euro come è di listino o se effettivamente si sono ridimensionati l'hanno messo fisso a 239 ma ad ogni modo tolti quei due controlli che saranno sicuramente oggetto di recensione magari poi una maxi comparativa se volete comprare il dual sense vi lascio il link giù in descrizione sappiate che se lo comprirete tramite il mio link aiuterete il canale a crescere così come lo aiuterete se farete quello abbondamento di cui vi parlava inizio video per questo video è veramente tutto se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi accendete la campanella noi ci vediamo alla prossima recensione unboxing un salutone da megaticker qui è tutto e ciao